Il Carnevale è sempre un'occasione per fare festa, per far scendere le persone in piazza. I rocchesi hanno partecipato e di questo siamo contentissimi. Ovviamente ringraziamo gli amici di Risigliano che sono venuti stamattina e gli amici di Liberi che ci hanno deliziato con il loro Carnevale. Insomma, questo è il mio ringraziamento e ringraziamento per tutti. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 3.30 in piazza Sant'Agnello a Gargani. continuerà il nostro Carnevale, il Carnevale rocchese, con i ragazzi di Gargani che hanno organizzato un po' di animazione per i bambini. L'appuntamento è lì, in piazza Sant'Agnello.